Buonasera, sullo sfondo della passione del Signore tra Gerusalemme e il Calvario vengono alla ribalta tutta una serie di personaggi e episodi che il racconto evangelico fotografa e immortala. Ognuno di questi personaggi è emblematico di una situazione, di uno stato d'animo. Insomma, attraverso la passione del Cristo si conoscono meglio le passioni e il carattere degli uomini. Ne parliamo con Giulio Andreotti, in quanto protagonista di storia, ma anche come scrittore osservatore di storia e esperto conoscitore della psicologia umana. Presidente, buonasera a questa breve ricognizione dei personaggi e degli episodi della passione comincia dal giovedì sera, durante l'ultima scena, quando Gesù annuncia il tradimento di Giuda. Ora, su questa figura di Giuda, maledetta ma tragicamente necessaria, si sono interrogati in tanti. Secondo lei, perché ha tradito? Banalmente per 30 denari, per una ideologia, un progetto, oppure per una invidia, un rancore personale o perché altro? Probabilmente era il punto finale di una divaricazione completa da quello che era l'insegnamento di Gesù. Giuda che si arrabbiava quando qualcuno spendeva, come la Maddalena, i naromi, per fare onore a Gesù e diceva che si poteva risparmiare da rei poveri, invece poi risparmiava perché si diceva che era ladro. Quindi c'era veramente una incompatibilità, vorrei dire, di carattere completo con tutto il collegio apostolico. Altri pure le hanno fatte di grosse, ma poi si sono pentiti e la strada si è ricomposta. Con Giuda questo non era possibile ed è la lezione tristissima del suicidio, cioè la disperazione come punto finale. Senta, dopo la scena al Gezzemani l'invito del Cristo ai discepoli di non lasciarlo solo, di restare con lui, il famoso vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Qualche giorno fa il Papa ha detto che la Chiesa, tutta la Chiesa è in debito con il suo Signore di una veglia mancata perché Pietro e gli altri si addormentarono. Io le faccio una domanda privata. Guardando alla storia del suo rapporto con Dio, c'è un appuntamento mancato per il quale lei si sente in debito più degli altri con il Signore? Beh, senza dubbio ce ne sono molti perché io credo che nessuno di noi possa dire di aver sempre corrisposto a quelle che erano le opportunità per fare del bene. Se mi domanda un appuntamento specifico, mancato, così a prima memoria non mi viene alla mente, però senza dubbio io credo che una delle cose importanti che sia stata fatta nel clima conciliare è stato quello di introdurre la menzione dei peccati di omissione che prima non c'era e di omissioni certamente anch'io ne ho molte lungo la mia vita. Ma lei quando, domanda ancora più privata, quando prega tu per tu con Dio usa la stessa misura di autoironia che la distingue nei discorsi pubblici? Direi di no perché col Signore l'ironia suonerebbe male. Autoironia. Con gli uomini serve perché qualche volta si possono dire delle cose anche dure in una forma meno offensiva, ma quando si è al cospetto del Signore. Poi la miglior preghiera è il silenzio io credo, almeno penso che questo rapporto senza parole e anche senza idee è la cosa che mi ha sempre più affascinato man mano che avanzo nell'età e ormai sono avanzato abbastanza. Questa era la risposta alla domanda privata. Adesso le faccio una domanda sulla sua vita pubblica. Intanto andiamo avanti con il nostro racconto. Arriviamo al venerdì mattina quando il Signore viene portato a palazzo davanti al governatore romano. Ora lei è uno che tante volte in vesti diversi ha impersonato l'autorità dello Stato. Si è mai chiesto in quella circostanza, in quel determinato contesto storico, se fosse stato nei panni di Pilato, cosa avrebbe fatto, senza sapere granché di quell'uomo e dovendo salvaguardare tanti equilibri senza poter urtare tante suscettibilità e con quel prigioniero così caparbio che non collaborava? Quello che mi ha sempre più colpito nella lettura della Passione è proprio un fatto politico, cioè che cosa costringe Pilato a fare quello che pensava non giusto perché va bene lui dice sono innocente nel sangue di questo giusto ma se poi questo giusto veniva ammazzato non era innocente manco per niente. Era una preoccupazione di carattere politico perché tra tutte le cose che la folla con grande perfidia a mio avviso gli gridava per far liberare Barabba e lasciare invece al suo destino Gesù era quella se siunque dimittis non est amico di Cesare, se tu lo lasci libero non sei amico di Cesare. Ora se si pensa poi che tutta quella folla non era per niente amica di Cesare, amica di Roma, però colpirono direi questo alto funzionario nella paura di andare in disgrazia e quindi di perdere completamente anche la sua autorevolezza. Questo è forse l'aspetto in un certo senso meno nobile per cui Pilato non è solo uno che se ne lava le mani, è uno che veramente mettendo sui due piatti della bilanza la propria posizione e la morte di un innocente lasciava morire l'innocente. Questo rischio lo corre spesso alla politica? Io spero di no, spesso almeno in questi termini così drammatici no, però il sapere pesare sempre bene quello che è il valore comune, quello che è un interesse privato, non parlo solo di interessi materiali, non è facile e la tentazione di non sapere essere oggettivo forse è una delle tentazioni in cui chi fa vita politica incorre più spesso. Lei ha parlato dell'importanza e della pressione della folla, altro grande protagonista della passione che prima accoglie come un re a Gerusalemme Gesù e poi lo condanne, lo beffeggia fin sotto alla croce. Io all'inizio di questa intervista ho detto che lei è un esperto conoscitore della psicologia umana e direi che da mezzo secolo di rapporti con gli umori della gente esce bene, ha dimostrato di saperli trattare. Secondo lei in quel caso, in quell'episodio fu disinformazione oppure qualcosa, manipolazione oppure qualcosa di peggio? Cioè dobbiamo pensare che quando la gente si mette insieme tendono a prevalere di umori peggiori? Questo esiste, c'è il reato di folla, in termini molto più piccoli ci sono per esempio atti di vandalismo che dei ragazzi fanno quando stanno assieme che singolarmente non si sognerebbero mai di fare e in più c'era io credo una grandissima ignoranza, quella popolazione, non c'era certamente la scuola d'obbligo e la scuola e l'istruzione erano patrimonio di un ceto molto limitato che manipolava in fondo gli umori della gente come voleva e questa era la migliore dimostrazione, cioè mentre avrebbero dovuto rispetto a quella che era stata l'esperienza quotidiana di vedere perfino dei miracoli, avrebbero dovuto essere dei grandi esaltatori di Gesù Cristo, poi invece si lasciavano mettere su da questa specie di campagna di chi vedeva in fondo crollare, io non so se fosse in buona fede o no, questo lo si vedrà nell'altro mondo, ma vedevano crollare tutto un insieme di certezze su cui erano arroccati e che Gesù aveva mandato in tilt. Senta, questa ricognizione che abbiamo fatto attraverso i personaggi, gli episodi della passione finisce il giorno della domenica di fronte a una tomba vuota, ora di fronte a un fatto del genere le reazioni possono essere diverse, adesione, entusiasmo oppure smarrimento, dubbio, pure incredulità e sospetto. Sappiamo che la fede è un dono di Dio, però si appoggia sull'annuncio, sulla proposta di un uomo. Lei è famoso per aver convinto in circostanze critiche anche gli oppositori più tenaci e irriducibili a essere riuscito dove altri non erano riusciti. Non sempre, ma... Che cosa, in alcune circostanze, che cosa direbbe per convincere qualcuno che quella tomba vuota è piena di buone ragioni per credere e per sperare? Non lo so, perché questo è difficile dirlo così a freddo, ma forse se è un elemento di consolazione che anche tra i discepoli, in fondo uno che impiegò una settimana di più per credere che Gesù Cristo era risorto e poi diventato santo ugualmente. Ringrazio e facciamo tanti auguri di buona Pasqua. Grazie. 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 Grazie.